Sono Luciano Grispa, stiamo presentando un po' di lavori di tre cioccolpito vino e questo lo facciamo anche con l'Università della Libretta, è iniziato quest'anno la prima edizione, è stato molto gradito. Abito da variano. Allora questo è il Midorino, sono quattro anni che ho iniziato a fare, mi ha insegnato un vecchietto del bar di narci. Questo è il Midorino. Un altro lavoro che faccio da molti anni è rintarselo nel regno, rintarselo di Diego. Come vedete ci sono i lavori sul tavolo. Ma questo è quello che è stato più facile, meno impegnativo. C'è questo signore anziano che ha detto, vieni prova, vedrai che bello. Quando trovo un soggetto che mi piace cerco di rifarlo, copiarlo oppure inventarlo come questi, provare con vari colori, sto facendo varie prove. Questo è giusto per vedere come si può fare. Solitamente faccio un mercatino all'anno che è la macchina del legno. Un altro evento, basta, l'unico evento pubblico che faccio. E questo è già l'occasione di far presentare. Settembre, il primo domenica è settembre. Un altro evento, per l'interno. Un altro tempo, per l'interno come. Un altro tempo, per le chilometri. Un altro tempo. È una corrupace. Questa è nella web, èчасso questa nostra dormitura. Certione Morale.